La ciclovia è una infrastruttura che va a incidere troppo sulla ferrovia. La ferrovia del Metaro è una infrastruttura che è stata abbandonata, però ha un tracciato straordinario perché ci permette di arrivare a Urbino senza dover fare niente se non una manutenzione anche straordinaria di alcuni tratti. Farci sopra una ciclovia è la cosa più dannosa perché vuol dire abbandonare completamente un sedime importantissimo di un'infrastruttura. Già che ci mancano le infrastrutture, credo che non sia assolutamente il caso. La cosa che non vi è piaciuta neanche è stata la presenza di Aguzzi al tavolo. Certo, non ci è piaciuto anche perché noi abbiamo fatto già a luglio scorso un incontro con i sindaci della vallata del Metauno proprio per parlare di questa iniziativa che si palesava nell'aria di fare una pista ciclabile adiacente alla ferrovia. Abbiamo convenuto che forse fare una ciclovia per l'entroterra sarebbe molto interessante dal punto di vista turistico, però lungo il fiume. Noi abbiamo bisogno di mobilità nella nostra provincia, abbiamo bisogno di avere più treno per ridurre anche le polveri suttili che ci sono in città, abbiamo bisogno di più mezzi pubblici. Quindi la sua partecipazione non è stata assolutamente, a mio avviso, né concordata con noi e neanche, diciamo, è stata forse un po' uno strappo nei confronti del centro-destra. Tra l'altro la ferrovia Fano-Urbino rientra nel piano delle RFI per le ferrovie storiche, quindi si può fare benissimo la cosa. Assolutamente. Intanto dobbiamo andare verso un trasporto più pubblico, più integrato anche. Potrebbe essere una bellissima ferrovia storica, oppure anche una metropolitana di superficie che mi collega alla Valle del Metauro con la costa. Ma un trasporto pubblico serve per l'anziano, serve per il disabile, serve per tutta una serie di categorie di persone che non possono andare in bicicletta. Credo che le due cose possano assolutamente convivere, però non adiacenti, perché l'una mangia l'altra e quindi non va bene.